L'obiettivo primario è quello di cancellare i luoghi comuni sul turismo, iniziando dal termine destagionalizzazione che, a volte, può rappresentare un alibi dietro cui nascondersi. Nell'incontro organizzato da BTM, gli stakeholders del turismo hanno sottolineato quanto il Salento debba fare turismo tutto l'anno e magari pensare a una strategia globale per le regioni del sud. Ritengo sia assolutamente necessario cominciare a ragionare, a mettere sullo stesso tavolo delle regioni del Mezzogiorno per condividere le sfide che il turismo in questo momento ci sta mettendo sotto gli occhi. Il cambiamento climatico è una di queste, ma può essere un elemento di strategia condividere gli elementi sui prodotti turistici, così come sulle infrastrutture e sui trasporti. Per questo sarà assolutamente proporlo ai miei colleghi delle regioni del Mezzogiorno. Ormai io non parlo più di destagionalizzare. Si può fare turismo in questa meravigliosa terra tutto l'anno. Bisogna solo organizzare i servizi, organizzare gli eventi, organizzare gli operatori e cercare di tenere quanto più possibile le strutture aperte in modo che un turista che arriva non nei mesi clou di alta stagione abbia comunque gli stessi servizi garantiti. Innovazione e tradizione. È importante che entrambi i termini si sposino per un turismo sicuramente migliore. Oggi ho un bellissimo incontro qui a Lecce, BTM, un incontro importante appunto affinché il nostro territorio non perde di vista sicuramente l'ospitalità. L'ospitalità all'interno della cultura, delle tradizioni e di un turismo sicuramente che va costantemente aggiornato.